è stato trovato un corpo senza vita il cadavere è quello di willy trent padrone del locale ucciso dal suo cocktail preferito quattro sospetti willy negli ultimi tempi non mi dava retta era una testa calda graffola per topi il nostro gatto persiano pensi che riesce a stare su due zampe e poi fa vuol fai te voi siete i musicisti del locale giusto che cosa ha risposto al signor trent quando le ha chiesto di sposarla ma io non la sopporto più signora però non faccia arrabbiare il rispettore perchè sta lavorando io la sbatto dentro voglio sapere dov'era lei mentre si compiva il delitto signor rispettore un uomo d'onore rimane sempre un uomo d'onore ti ho detto di no anche se non è un uomo di tutto signor rispettore che non è un uomo d'onore ma non è un uomo d'onore ma non è un uomo d'onore